perché mi sento come se avessi un orecchio bloccato. I sintomi dell'orecchio bloccato possono verificarsi per una serie di motivi, tra cui l'accumulo di cera nel condotto uditivo o l'accumulo di liquidi a causa di un'infezione all'orecchio. Oggetti estranei possono causare sintomi dell'orecchio bloccato se si depositano all'interno dell'orecchio. Allergie, infezioni sinusali e persino problemi con l'articolazione temporomandibolare possono causare sensazioni di avere un orecchio bloccato. Lesioni all'orecchio, specialmente da improvvisi cambiamenti della pressione atmosferica, possono anche causare sintomi di blocco dell'orecchio. In alcuni casi, la disfunzione della tuba di ostacchio può essere responsabile delle sensazioni di blocco nell'orecchio. Il sintomo più esperto del blocco uditivo potrebbe essere una riduzione dell'udito. A seconda della causa del blocco dell'orecchio, possono verificarsi dolore, scarico, vertigini e disturbi dell'equilibrio. In alcuni casi, le orecchie bloccate possono sanguinare. La maggior parte delle persone avverte sintomi dell'orecchio bloccati perché alcune cause sottostanti come infezione, accumulo di cera, lesioni o oggetti estranei limitano la capacità del corpo di regolare la pressione nell'orecchio medio, la parte situata oltre il timpano e il condotto uditivo. Allergie, sinusite e raffreddori possono causare accumulo di liquido nella tromba di ostacchio, il tubo che scorre tra l'orecchio medio e la parte posteriore della gola. Quando questo tubo non funziona correttamente, il corpo non può regolare adeguatamente la pressione dell'orecchio medio e possono verificarsi sensazioni di blocco dell'orecchio. Le deformità delle trombe di ostacchio o le lesioni alle tube di ostacchio possono portare a sintomi simili. Infezioni, corpi estranei e tappi di cerume possono causare sensazioni di ostruzione delle orecchie. Oggetti estranei o tappi di cera possono bloccare il condotto uditivo, causando anomalie nella pressione dell'orecchio medio. L'udito ridotto può verificarsi perché l'oggetto estraneo o la spina di cera possono impedire i suoni di raggiungere l'orecchio medio e interno. Infezioni dell'orecchio possono causare l'accumulo di liquidi nel condotto uditivo o nell'orecchio medio. Questo può portare a squilibri di pressione all'interno dell'orecchio e può bloccare le onde sonore di penetrare nell'orecchio medio e interno. Se i sintomi dell'orecchio bloccati durano per più di 24 ore, o sono accompagnati da dolore, febbre, sanguinamento o altri sintomi, si consiglia generalmente un trattamento medico. I pazienti vengono generalmente avvertiti di non rimuovere i tappi di cera o oggetti estranei dal condotto uditivo senza l'aiuto di un medico. Infezioni e lesioni all'orecchio non trattati possono causare danni gravi e permanenti all'udito.